Oggi sono nel regno del sottosegretario all'economia Alessio Villarrosa, Barcellona, Castro Reale e siamo giunti alla conclusione proprio con i colleghi sindaci che è arrivato il momento di reagire a questo silenzio e soprattutto a queste proposte indecenti che ci provengono proprio da chi si era impegnato a risolvere il problema finanziario delle ex province di tutta la Sicilia. Vogliamo lanciare la nostra reazione con una marcia di protesta l'1 maggio, ore 9, ci raduneremo tutti i sindaci della provincia di Messina a Piazza Duomo a Messina e faremo una nostra marcia di protesta fino alla prefettura. Chiederemo a Sua Eccellenza il prefetto, visto che rappresenta lo Stato nella nostra provincia, di agire anche perché noi non siamo più nelle condizioni di poter giustificare queste omissioni e soprattutto non siamo più nelle condizioni di poter continuare a reggere queste omiliazioni a causa proprio di una situazione finanziaria che non si sblocca. Abbiamo oltre 400 milioni di euro di investimenti fermi e abbiamo strade in pericolo, scuole in pericolo e subiamo continuamente questa mortificazione che lo Stato nella persona del sottosegretario all'economia Alessio Villarosa continua a riservare alla Sicilia. Non ci stiamo più, è il momento di reagire, lo dico a tutti i miei colleghi sindaci, l'1 maggio alle ore 9 ci vediamo a Piazza Duomo con le nostre fasce e andremo in prefettura a consegnarle simbolicamente al prefetto di Messina.